Salve amici di Advents Italian, in questo video andremo a vedere tre parole, tre sinonimi che sono molto usati nella lingua italiana, però in contesti un po' diversi. Vi spiegherò il significato che loro hanno anche in inglese, facendovi degli esempi di come si usano e vi spiegherò anche qualche differenza di fondo che hanno tra di loro. E' importante imparare bene queste parole perché vengono usate tantissimo, le prime due specialmente anche in senso giuridico, giuridico e legale, e dovete prestare molta attenzione perché si può anche fare confusione ovviamente. Le parole sono obbligatorio, essere imposto o forzato. Obbligatorio è un aggettivo, in inglese sarebbe binding, mandatory, compulsory. Significa essere previsto e imposto per legge o da altre disposizioni normative. Quindi qualcosa è obbligatorio, il contrario di facoltativo. Facoltativo, specialmente quando compilate questionari, vedete spesso le parole obbligatorie a facoltativo, ad esempio, nome e cognome sono obbligatori, dovete per forza scriverli. Se no, non venite ad esempio registrati all'università o se volete iscrivervi a qualche parte, non riuscite ad iscrivervi perché non avete messo le informazioni obbligatorie. Facoltativo, ad esempio, il numero di telefono lo potete mettere, lo potete anche non mettere, decidete voi se è facoltativo o se è obbligatorio, non potete decidere perché dovete farlo, dovete dare quell'informazione. Questo campo obbligatorio contiene sei informazioni separate dal carattere. This mandatory field has six information items separated by the character. No, non è obbligatorio rispondere. No, it is not compulsory to answer. Passiamo alla seconda parola, che con obbligatorio sono molto simili, però questo diciamo che ha un carattere un po' diverso, che cercherò di spiegarvi. Essere imposto to be forced or to be imposed. Essere ordinato in virtù di un'autorità giuridica o morale o di una posizione di forza. Quindi, entrambi sono sinonimi, qui però può essere inteso anche sotto forma di ordine, cioè siete ordinati a fare qualcosa. Invece qua non è un ordine, cioè se voi non date le informazioni obbligatorie non venite registrati o iscritti all'università, ma nessuno vi costringe o vi obbliga a darle quelle informazioni. Potete non darle, ma sapete che la pena è non iscrivervi all'università. Mentre qui non è che non avete la libertà di scegliere se farlo o no, se dare i dati o no. Qui venite ordinati di fare qualcosa. Cioè la legge, ad esempio, vi impone di pagare le tasse. Se voi non date le informazioni obbligatorie non venite iscritti all'università, ma potete anche non darle. Qui invece non è che potete non pagare le tasse. Dovete per forza pagarle, se no andate in carcere per evasione fiscale, ad esempio. Quindi, qui siete ordinati a fare qualcosa. Entrambi sono in contesto più o meno giuridico. Imporre qualcosa, obbligare a fare qualcosa, si dice. Si possono usare entrambi i verbi, però sappiate che imporre a qualcuno di fare qualcosa significa dargli un ordine di fare qualcosa. I genitori li hanno imposto di sposarlo. Her parents forced her to marry him. Quindi, to be forced, to be imposed. L'hanno forzata a sposarlo. Significa non solo averla ordinata a sposarsi, ma anche averla costretta a sposarsi. Il vincitore ha imposto ai vinti dure condizioni di pace. The winner imposed hard conditions of peace on the vanquished. Adesso vedremo anche l'aggettivo o sostantivo maschile forzato, che significa comunque forced constraint. Però, attenzione, abbiamo detto che qua, non compilando i campi obbligatori, probabilmente la vostra richiesta non verrà registrata. Qua siete ordinati a fare qualcosa. Mentre qua siete forzati, qua viene incluso anche l'uso della forza. Ossia, possiamo anche intuire che siamo nei limiti della violenza. Quindi, l'hanno forzato ad entrare lì. Hanno usato la forza, l'hanno spinto, ad esempio, ad entrare in quell'edificio. Qui viene inclusa anche la forza fisica, che nel caso di imporre o d'obbligare non viene inclusa, non viene considerata implicita. Non è ovvio. Qua non è ovvio l'uso della forza quando imponi qualcosa e nemmeno quando obblighi a fare qualcosa. Non è incluso l'uso della forza fisica. Qua, invece, può essere incluso anche l'uso della forza fisica. Potete usare anche la forza fisica per costringere qualcuno a fare qualcosa. Lo potete forzare a fare qualcosa. Quindi, significa che qualcosa è stata fatta con uno sforzo imposto dalla convenienza o dalla necessità sforzato. Non necessariamente usare la forza fisica, ma può essere usato per intendere anche quello. Cioè, si può anche dire che sono stato forzato a dire le informazioni. Qui posso implicare che mi hanno costretto, picchiandomi, a dare quelle informazioni, ma mi hanno anche obbligato minacciandomi. Quindi, senza, senza, senza usare però la forza fisica. Potrebbero averla usata, ma potrebbero anche non averla usata. Invece, qui, imporre ed obbligare, come abbiamo detto, non c'è forza fisica. Tutti capiranno che questo è un matrimonio forzato. Everyone will understand that this is a forced marriage. Significa essere imposto anche obbligatoriamente dalla legge, sia per necessità pubblica, sia come pena. Questa legge rende l'espropriazione forzata. This law makes forced expropriation. Quindi, espropriazione forzata significa quando tu prendi praticamente una persona che non ha il diritto, in base alla legge, di stare in quella casa. Lui però dice, no, questa è la mia casa. Tu lo prendi con la forza e lo butti fuori. Perché devi buttare giù, ad esempio, quella casa che è stata costruita in modo illecito, sia senza un permesso da parte del comune, eccetera. Questa persona, se non esce di sua spontanea volontà, se non accetta di ascoltare l'ordine che gli è stato imposto, quindi gli è stato imposto l'ordine di uscire dalla casa, non è stato picchiato per uscire dalla casa, ma gli è stato imposto l'ordine, lui non ascolta l'ordine, allora viene forzato ad uscire dalla casa. Quindi lo prendono con la forza, lo mandano fuori e buttano la casa giù. Come avete notato, se voi intendete che la legge vi obbliga a fare qualcosa, potete dire la legge mi obbliga, mi impone o mi forza. Sono tutti e tre sinonimi, però in tutti e tre i casi state dicendo che vi costringe a fare qualcosa, ma non con la forza. Se volete includere l'uso della forza, della violenza, allora me l'hanno imposto con la forza, lo potete usare, ma dicendo semplicemente mi hanno imposto, non state contemporaneamente dicendo che vi hanno costretto con la forza. In tutti e tre i casi, però, potete includere la parola forza, potete dire mi hanno obbligato con la forza, mi hanno imposto con la forza o mi hanno forzato, ma se dite semplicemente mi hanno obbligato e mi hanno imposto, non necessariamente state implicando che hanno usato la forza per farvi fare qualcosa. Qui si possono avere anche molti fraintesi perché, ad esempio, se dite è venuta la polizia e mi ha imposto di uscire fuori, detto, ah, ti hanno dato un foglio in cui c'era scritto che dovevi uscire fuori, no, no, mi hanno usato la forza, ah, quindi ti hanno forzato ad uscire, sì, mi hanno forzato ad uscire, hanno usato la forza per farmi uscire, ah, ecco, come potete notare, dicendo semplicemente mi hanno obbligato, mi hanno imposto, non state implicando che hanno usato la forza per mandarvi fuori. Sono termini molto usati, specialmente in senso giuridico, ma anche quotidianamente. Ad esempio potete dire ad un amico che vi dice, vai a comprarmi, che ne so, un pacchetto di sigarette, puoi dire, non mi puoi obbligare a fare niente per te se non voglio farlo, se non voglio andare a comprarlo, o non mi puoi imporre di fare qualcosa, o anche non mi puoi forzare di fare quella cosa. Quindi fare qualcosa contro la propria volontà, solo perché la legge vi costringe una minaccia, un atto di violenza, eccetera, vi obbliga a fare qualcosa che voi probabilmente non fareste se non foste obbligati, imposti o forzati a fare quella cosa. Ciò significano questi tre sinonimi, significano fare qualcosa che non fareste in altre condizioni se non ci fosse questo obbligo di farle. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia chiarito un po' la differenza tra queste parole. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro scrivetemi pure un commento, sarò lieto di rispondervi. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!